Caterinca, dopo lui ti ha detto che non vuoi se faccio nimi, sai? Non, non, non è sincero. Stai, no! Stai, non ci fai! A un avevoının micro e piuttosto. Niente想arti! Se ci sono sono fatочки, non? Non sono! Non ci, no ci sono bene, non ci sono non ci sono fatto, non ci sonoori 4911ers. . Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.